Chi deve domandere? Mi è stato marato, perché Krishna è andato a Dvaraka e ha lasciato solo Radarani? Very nice question Allora, the question is Why Krishna did leave Radarani and did go to Dvaraka? Why he did like this? Questa è la famosa domanda da 100 mila milioni Perché è un disgraziato Never leave Radhika Non lascia mai Radarani Lui sempre mantiene il servizio in Radhika Questo è il significato del servizio di Shaitanya Mahaprabhu E quindi Krishna automaticamente deve tornare indietro E quindi Krishna automaticamente deve tornare indietro Quindi non... Prima Maraja ha detto Non può stare tanto tempo separato In realtà Maraja dice Onestamente vi devo dire Perché Krishna non lascia mai Vrindavana Questo è il lavoro di Narayana Krishna E Narayana Krishna Quindi Krishna Vrajandranandana Non lascia mai Vrindavana Lasciare Vrindavana è un lavoro che fa Krishna Narayana Quindi Radhika e Krishna sono sempre insieme Quindi Radhika e Krishna sono sempre insieme Quindi quello che è importante Radhika è importante o Krishna è importante Quindi è importante Radha o è importante Krishna Quindi se voi prendete rifugio nel Krishna di Radharani Lui non vi lascerà mai Vedete questo E se voi prendete rifugio nel Krishna di Radharani Lui non vi lascerà mai Invece se prendete rifugio in Krishna Lui vi porterà in giro in molti posti Perché lui è il capo Può fare quello che gli pare Può cambiare quello come vuole Invece se volete stabilizzarvi Prendete rifugio in Radhika E Krishna è sempre lì Questo è Chaitanya Questo è Chaitanya Sì? Siete d'accordo con Maraj? Sì Questo è un soggetto molto elevato Siccome siete tutti devoti Molto avanzati Molto anziani Allora è un argomento che Maraj Si sente di condividere con voi Sì 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 Vedete una foto Avete visto quella immagine? Krishna è seduto Krishna è seduto Sì 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 Se voi vedete In quel quadro La faccia di Radharani non è voltata verso Krishna Allora Lei si volta Volta la faccia E allora lei Siccome volta la faccia un attimo Comincia a pensare Comincia a pensare Krishna non è più con me Sono entrambi seduti nello stesso Sono entrambi seduti insieme Però siccome lei Siccome lei è arrabbiata Volta per un attimo la faccia Che si volta la faccia In modo che in quel momento I suoi occhi non sono fissi verso Krishna E lei è in viraha E quindi lei entra In un sentimento di separazione per Krishna E comincia a piangere E quando apre gli occhi Allora vede che sta scorrendo il fiume Yamuna E quindi apre gli occhi e vede Krishna Perché? Perché vede nell'acqua Il riflesso di Krishna E allora di nuovo lei chiude gli occhi Perché è arrabbiata con Krishna E di nuovo ricomincia a piangere E anche Krishna si mette a piangere E anche Krishna si mette a piangere E quindi si mette le parole Vrindavana E la madre dice E quindi come nell'episodio di Jagannatha E quindi come nell'episodio di Jagannatha E poi si mette a piangere E poi si mette a piangere E poi si mette a piangere Perché infatti noi li chiamiamo Infatti noi li chiamiamo Nitya Lila Nitya Lila significa faccende che stanno succedendo costantemente sempre anche adesso Non è una cosa successa 5.000 anni fa Si capisce? Questa realizzazione È questa realizzazione che noi dobbiamo raggiungere Bravo Grazie Grazie Grazie